Buonasera e bentornati a Primo Cittadino. Diamo subito il via a questa seconda puntata dell'anno con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Buonasera sindaco, bentornato. Buonasera a tutti. Ricordiamo come sempre i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33 se volete parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250. In questo numero potete inviarci messaggi anche con whatsapp. Apriamo subito con la zona arancione. Le marche da ieri sono tornate in questa fascia. Ci resteranno per almeno due settimane. Sindaco secondo lei abbiamo sbagliato qualcosa? Sicuramente qualche comportamento potrebbe essere migliore però è un problema generale. Quasi tutta l'Italia è arancione. Addirittura alcune regioni sono rosse. Purtroppo questo virus è tremendo. Difficilmente si riesce a contrastare. Sicuramente il periodo natalizio è stato un periodo non facile. Grazie io credo alle restrizioni che tutti noi abbiamo sopportato. La situazione non esplosa e quindi la condizione del sistema sanitario è ancora sotto controllo. Però il virus ancora circola. Circola pesantemente. Poi abbiamo tutta questa dinamica intorno alle varianti che velocizzano il contagio. Sicuramente anche nel nostro territorio ci saranno sicuramente casi legati alla variante più veloce che viene dall'Inghilterra. Ma come vedete in giro per il mondo di varianti ce ne sono tanti. Il virus cerca di trovare la strada più veloce per moltiplicarsi e quindi sarà ancora una partita lunga. Fino a che non ci saremo vaccinati almeno il 70 per cento delle persone dovremo ancora purtroppo convivere con questo virus e di conseguenza ristringere alcune possibilità di movimento, alcune nostre libertà che è un aspetto che sta facendo soffrire tantissimo il paese sia dal punto di vista socio psicologico che dal punto di vista economico come sappiamo. Lei ha istituito anche il senso unico nel centro storico però abbiamo visto sui social che comunque i ragazzi poi vanno ad assembrarsi da altre parti. Ci sono dei controlli, stanno elevando delle multe? Le regole e i controlli sicuramente servono ma innanzitutto serve il senso di responsabilità delle persone perché è ovvio che qualsiasi regola può essere scavalcata, può essere lusa, serve un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Lo diciamo continuamente però io devo dire, lo vediamo anche dalle immagini che gran parte delle persone sono responsabili, tutti girano con la mascherina, anche il senso unico pedonale che mai avrei pensato di dover inventare per gestire al meglio il passeggio nel sabato pomeriggio in particolar modo, la domenica pomeriggio viene rispettato, non ci sono persone che non rispettano le regole, è chiaro che questo ha consentito anche di scoprire alcune vie secondarie, quindi ha avuto anche un aspetto positivo e soprattutto ci ha consentito di non chiudere le attività del centro perché altrimenti avremmo dovuto chiudere il centro storico come fra l'altro hanno fatto altre realtà nella vicina Romagna. Sono tutte regole che ci aiutano a convivere con il virus, a gestire la situazione però come dire, poi le regole e i controlli servono ma serve appunto la responsabilità di ognuno di noi. Le chiede Alessandro ma quando riapriranno palestre e piscine? Ancora ci vorrà un po' di tempo per questo. Sì ed è un peccato perché fra l'altro lo sport non solo è un qualche cosa che fa bene alla salute di tutti noi, dei più giovani, dei meno giovani, ma anche una rete sociale fantastica nella nostra città e quindi io spero davvero che si possa riaprire il prima possibile in sicurezza. È evidente che al chiuso con sport di contatto ancora i problemi sono tanti e quindi non sarà facile non credo che ci sarà una riapertura immediata. Io penso, se devo fare una previsione, penso che per tutto il mese di gennaio presumibilmente rimarremo in zona arancione, sperando ovviamente che i dati migliorino e che poi si possa aprire una situazione diversa. Però se dovessi scommettere un euro oggi lo scommetterei sul fatto che presumibilmente il mese di gennaio sarà un mese arancione per il nostro territorio. Oggi pomeriggio il Presidente delle Marche ha annunciato anche una possibile riapertura delle scuole superiori. Aveva firmato un'ordinanza per farle riaprire dal primo di febbraio, però pare ci sia stato un dietrofront. Che cosa succederà soltanto qualora l'RT, l'indice RT rimanga sotto l'1 e se comunque i contagi, il numero dei contagi rimarrà stabile. Lei condivide questa scelta, suppongo, visto che addirittura avrebbe riaperto le scuole in sicurezza già dal 18? Ma intanto io penso che sia assurdo che ogni regione decida sulle scuole per conto proprio. È chiaro che poi diventa una scelta politica, tant'è che abbiamo avuto regioni che stavano peggio di noi, che hanno aperto il 7 di gennaio, regioni che hanno aperto proprio oggi, regioni che apriranno lunedì. Le Marche si erano posizionate con le poche regioni che volevano riaprire a febbraio, nonostante che fino alla settimana scorsa fossimo gialli, quindi come dire, una delle regioni senza grandi problemi. Mi era sembrata una scelta molto politica. Poi comprendo la prudenza, fa bene il Presidente Acquarola di essere molto prudente, perché i dati sono dati ancora preoccupanti. Però credo che in particolar modo nelle Marche si possa aprire le scuole in maniera sicura. Intanto perché sui trasporti mi risulta che sia stato fatto un lavoro importante con gli studi scolastici per scaglionare gli orari d'arrivo, le partenze, le fermate. E poi perché al 50% in presenza, già questo attutisce molto l'impatto della riapertura delle scuole nelle scuole superiori. In più, come io dico da ormai settimane, mi pare che oggi la Giunta regionale ci stia dando ragione, nelle Marche abbiamo un'opportunità in più, che è quella di fare i tamponi rapidi. Perché le Marche... Ecco, Salta Martini tra l'altro l'aveva detto, no, sta sbagliando i numeri, i conteggi. Secondo me, io ho un buon rapporto con l'assessore alla sanità, mi dispiace anche che, come dire, ci sia stata un minimo di polemica sui giornali, perché il mio obiettivo era davvero aiutare la Regione a riaprire la scuola in sicurezza. Anzi, io ho apprezzato dal primo minuto questa operazione che la Regione ha fatto di screening gratuito per le persone. A Pesaro ci siamo organizzati, ci siamo stati in primo comune insieme ad Ancona, l'abbiamo fatto prima di Natale, ci siamo organizzati al meglio come comune per dare il miglior servizio possibile. E devo dire che è stato molto utile, perché più di 30.000 persone si sono controllate, hanno permesso, hanno così passato le feste con maggiore tranquillità e almeno un centinaio di positivi asintomatici sono stati, come dire, sono emersi da questo screening e quei 100 asintomatici positivi, se non ci fosse stato lo screening, avrebbero infettato presumibilmente le loro famiglie e magari anche i parenti durante il periodo di Natale. Quindi io la ritengo, questa operazione è un'operazione sicuramente dispengiosa dal punto di vista organizzativo, ma molto importante, a Pesaro è andata molto bene. Siccome però la Regione aveva comprato 800.000 tamponi, facendo una proiezione dei tamponi che si stanno facendo, io credo che i tamponi alla fine delle marche, le persone che faranno il tampone veloce, i cittadini saranno circa 200.000. Se sono sbagliate le mie previsioni, sono proporzioni in base a quello che è successo a Pesaro, a Pesaro circa 100.000 abitanti, circa 13.000 tamponi. Nelle marche abbiamo un milione e mezzo di abitanti, presumibilmente arriveremo intorno a 200.000. Facciamo anche che nei comuni piccoli ci sia una adesione maggiore, anche se non mi pare, arriveremo a 300.000 tamponi, vuol dire che ne rimangono 500.000. Essendo gli studenti marchigiani delle scuole superiori 77.000, significa che noi potremmo fare il tampone sei volte agli studenti delle marche. Quindi in teoria nelle marche potremmo fare il tampone ogni 15 giorni agli studenti delle scuole superiori. E quindi posizionarci davvero come una delle regioni più virtuose, in grado di fare in sicurezza di riaprire le scuole non solo al 50% di presenza, ma in sicurezza, perché già uno screening è una bella fotografia, uno screening ripetuto ogni 15 giorni darebbe davvero dei risultati importanti. Oggi c'è stata questa proposta che mi pare riprenda la nostra idea, io sono contento perché le amministrazioni devono collaborare. Non ho ben capito come lo vogliono organizzare, però mi sembra un passo avanti. Noi come Comune di Pesaro abbiamo già detto all'assessore che siamo disponibili a mettere sul piatto 30-40 mila euro per pagare personale extra e fare il tampone direttamente nelle scuole. Quindi la mattina, se si riaprirà la prossima settimana, questa è un'ipotesi, la prossima settimana una postazione al campus, una postazione in centro, una postazione all'alberghiero, una postazione all'agrario, siamo in grado di fare lo screening a costo del Comune, se la Regione si darà ovviamente i tamponi, a tutti gli studenti. Quindi credo che sia un'azione che vada fatta e quando si governa bisogna essere pragmatici e la collaborazione può portare solo beneficio ai cittadini. Le chiedono, ci scrive Enrico, volevo chiedere al sindaco perché molti negozi hanno chiuso nel centro storico e se qualcuno si rende conto del suo continuo declino. Eh, perché già il commercio è in crisi da anni. Questa pandemia ha dato, a mio parere, una botta ulteriore al commercio, al dettaglio, perché non solo, c'è stato ovviamente, sono state le chiusure, adesso nella zona arancione ad esempio i negozi sono aperti, però quando siamo stati rossi o quando abbiamo avuto il lockdown, ovviamente i negozi sono stati chiusi. Ma la cosa che è più preoccupante secondo me è che si è spostato, lo dico per i commercianti, si è spostato ulteriormente l'utilizzo del web per gli acquisti e quindi si è spostato ulteriormente una fetta di consumatori sulla vendita digitale, quindi sul commercio digitale. Questo è un bel problema che ci ritroveremo anche dopo quando la crisi non ci sarà più, perché sono abitudini che ormai si sono consolidate, che sicuramente sono un servizio in più per il consumatore, ma per il piccolo commercio, il piccolo commercio al dettaglio, sono un'ulteriore botta, sia da noi che in generale in tutto il mondo. Nel centro storico di Pesaro abbiamo un problema enorme, oltre a questo problema generale, diciamo, del commercio, sugli affitti, perché nelle vie principali ci sono affitti esorbitanti che soltanto le grandi catene riescono a sopportare e quindi il problema degli affitti è il vero problema, secondo me, quando chiudono negozi nel centro. Poi è evidente, quando uno intraprende, può andare bene, può andare male, fa parte del gioco. Però quando vediamo in momenti di crisi chiudere troppe attività rispetto a quelle che aprono, spesso e volentieri è legato al costo di affitto esorbitante. Ed è difficile intervenire. Io quando sono diventato sindaco avevo deciso di alzare al massimo le tasse per i proprietari che potevano permettersi di tenere in centro i negozi sfitti, cioè pur di non abbassare il prezzo li tenevano vuoti. E poi mi hanno spiegato giustamente che non si poteva fare anticostituzionale, perché la Costituzione tutela la proprietà privata e quindi ognuno con la propria proprietà ci fa quello che vuole. Non può essere costretto ad affittare. Quindi non è facile intervenire. Non è facile intervenire per abbassare gli affitti e nel centro storico di Pesaro questo è il problema numero uno oltre ovviamente ai problemi generali che il commercio ha. Quindi insomma non sarà facile. Noi fra l'altro avevamo riempito il centro di iniziative, di attività, di eventi proprio per creare movimento e questa aveva dato una bella mano a tante attività e soprattutto quelle legate al food, ma non solo al food e adesso dobbiamo iniziare da capo. Ma in questo momento facciamo i sensi unici. Dobbiamo evitare la folla. Fino all'anno scorso eravamo impegnati a riempire di folla il centro storico. E a proposito di folla, ci scrivono... Completamente cambiato lo scenario, ma prima o poi torneremo a riempire il centro con tante persone. Ci scrivono, domenica sono venuta a Pesaro e in città era pieno di gente, gente seduta ai bar per aperitivi, sembrava una fiera, ma di che cosa parliamo? Ci scrive la telespettatrice. La sicurezza di che? Come le dicevo prima, c'è stato un po' di... Si sono creati... Sì, questa è l'altra faccia della medaglia, nel senso che c'è chi si lamenta perché si creano dei limiti. Poi c'è chi si lamenta, giustamente, perché questi limiti poi non sempre vengono rispettati o ci si approfitta del periodo giallo, no? Il sabato sembrava l'ultimo giorno di vacanza, dove tutti dovevano andare a fare l'aperitivo, tutti dovevano andare a pranzo, tutti dovevano andare a fare l'ultimo bicchiere fino alle 6 di pomeriggio, finché i bar erano aperti. Però l'importante è farlo in sicurezza, distanziati, forse è questo che si evita. Il punto di questo meccanismo stop and go, nel senso che questa programmazione per colori sicuramente ha dato un minimo di organizzazione allo Stato, però io credo che i periodi dovrebbero essere più prolungati, cioè per questo dico arancioni, fino alla fine di gennaio organizziamoci in questo scenario qui, perché una settimana in un modo, una settimana in un altro... Si crea confusione, si crea questo meccanismo di affollamento nei momenti in cui, nei pochi giorni che hai delle riaperture, e poi anche per gli esercenti è molto complicato, perché devono fare gli ordini, devono chiamare il personale, stai aperto due giorni, poi richiudi due giorni, è molto complicato per le attività, quindi anche come sindaci abbiamo chiesto al governo, alle regioni, al CTS, di continuare con questo meccanismo delle zone colorate, perché non c'è un meccanismo alternativo, più convincente, però di fare dei periodi un po' più lunghi. È vero che c'è una verifica alla settimana, anche noi venerdì avremo la verifica dell'RT, dei posti letto in terapia intensiva, dei ricoveri, eccetera. Però se ci fosse una programmazione un po' più lunga, permetterebbe a tutti di organizzarsi meglio, magari evitando anche assembramenti nei pochi giorni di libertà. Sicuramente. Le chiedono gli ultra 75 anni con patologie pregresse, quando potranno essere vaccinati? Sono già state delle scadenze, sono state definite? Allora, mi pare che gli ultra 80 anni, gli 80 anni dal primo di febbraio, dovrebbero essere vaccinati. Quindi finite le RSA? Le marche non stanno brillando sui vaccini, diciamo, non sono tra le regioni migliori, però neanche tra le peggiori. Siamo un po' a metà strada dal punto di vista della velocità della vaccinazione. In altre regioni hanno cominciato a vaccinare gli 80 anni già da questa settimana. oggi nel Lazio, ad esempio, hanno vaccinato un prigioniero dello Shoah, un sopravvissuto dello Shoah, quindi una persona molto anziana, che ne ha viste di tutti i colori nella sua vita, e oggi si vaccinava dal Covid, dopo l'orrore dal quale è riuscito a scappare durante la sua gioventù nei campi di concentramento. Quindi alcune regioni hanno già iniziato sugli 80 anni. Nelle Marche mi pare che sia programmato dal primo febbraio. Tanti vigili a 100 metri dalla piazza principale, dove c'era anche un locale con persone che si erano ammassate, fatti chiudere i ristoranti e poi consentite a tutte le altre attività anche di non rispettare le regole. Poi non si... Sempre per lei è visto? Ci sono stati tanti controlli, devo dire che le forze dell'ordine della Polizia Municipale stanno facendo un ottimo lavoro. Non è facile, non è facile per quello che dicevo prima, perché se uno vuole infrangere le regole, infrange in Viale Trieste dove non ci sono i bar, le infrange ovunque. Non è possibile controllare tutta la città costantemente. Però magari iniziare a multare qualcuno, sì. Ah, ma le multe ne hanno fatte tante. Io ho avuto anche lamentele di genitori, perché i propri figli, i ragazzini, hanno avuto la multa perché facevano gli assembramenti e fanno ricorso. Cioè, vuol dire, il mondo è complicato. Quindi, di multe ce ne sono state tante, anche a locali. I controlli servono, il prefetto sta facendo un ottimo lavoro. Noi siamo fortunati nel nostro territorio perché abbiamo un ottimo prefetto. Ne ho visti tanti, tutti, devo dire, ne abbiamo incontrati tanti bravi, ma questo è particolarmente competente, particolarmente presente. Dopodiché non si può pensare che tutto si risolve con i controlli, perché ci sarà sempre qualcuno che ai controlli sfugge. E quindi bisogna fare leva molto anche sulla responsabilità delle persone. Quindi, controlli ci sono, ci saranno, ma non è possibile delegare tutti i controlli, perché le città, comunque Pesaro è una città con quasi 100.000 abitanti, è grande, non è pensabile che ci siano migliaia di poliziotti a controllare ogni angolo della città. Io li sto concentrando sui locali, cerco di spiegare a tutti quali sono anche i nuovi orari e quali pesaresi si sono abituati, perché poi cambiano gli orari, cambia l'orario dell'aperitivo, l'aperitivo non è più la sera, quando siamo in zona gialla inizia alle 11 del mattino, cambiano un po' le tipologie dei locali, quindi sto cercando di dare anche una mano per le conoscenze che ho della città a chi deve fare i controlli. Però, ripeto, non ce la faremo esclusivamente con i controlli, non è una battaglia che vinceremo con i controlli, questa è una battaglia che vinceremo con la responsabilità. Sono una mamma e mia figlia frequenta la scuola materna comunale di Pesaro. Volevo sapere come mai maestre personale dell'asilo non sono stati controllati a livello di tampone. Adesso c'è un altro tema oltre il tampone, c'è il tema di inserire tra le prime categorie da vaccinare il personale scolastico. Questa credo sia un'altra battaglia da fare, perché si sta vaccinando il personale sanitario ed è molto grave, leggevo oggi che ancora qualcuno non abbia aderito alla campagna di vaccinazione. Noi saremo molto duri rispetto alle case di riposo, oggi è uscito un articolo molto preoccupante, domani lo verificheremo meglio nei numeri, ma non esiste che tu lavori in una casa di riposo e non fai il vaccino. E vai a lavorare e rischi di far ammalare persone magari malate che dentro la casa di riposo non si possono vaccinare. Cioè ci vuole davvero senso di responsabilità. Io penso che alla fine, soprattutto in alcuni luoghi, come dire, davvero ci deve essere anche un sussulto di... Cioè la vaccinazione è un dovere. Cioè bisogna che scatta un meccanismo in cui, per cui le persone, soprattutto quelle che lavorano in ambiti delicati, capiscono che vaccinarsi è un dovere. Un dovere civico, morale, etico, nei confronti di coloro che non potranno vaccinarsi, che sono la parte più fragile della società. In più lo dico anche rispetto alla voglia di recuperare la libertà. Ma ci vogliamo liberare di questo virus oppure no? Io penso che tutti noi siamo stanchi delle limitazioni che ci siamo auto... come dire... autoimposti per sconfiggere il virus. Ma tutti noi vogliamo vivere in libertà e per vivere in libertà dobbiamo sconfiggere il virus. Per sconfiggere il virus dobbiamo vaccinarsi. C'è poca storia, ci sono poche storie da fare. Quindi lo Stato deve organizzarsi in maniera più veloce possibile e ovviamente il tema è quanti vaccini abbiamo, le forniture, le tipologie di vaccino. Come sapete il primo vaccino è quello più complicato perché viene conservato a meno 80 e quindi ha un'organizzazione nella diffusione molto complessa. Moderna già viene conservato a meno 20. Arriverà da noi a breve Moderna? Dovrebbe arrivare Moderna a breve e quindi già anche quello comunque meno 20 ha una tipologia organizzativa ancora complessa. Poi arriverà AstraZeneca e dovrebbe arrivare quello italiano che invece si conserva a meno 4. Meno 4 significa che potranno fare il vaccino i farmacisti, potranno fare il vaccino i medici di base perché non avranno bisogno di frigoriferi particolari. Quindi più andremo avanti più la cosa si diffonderà. Quello che chiediamo allo Stato è di fare presto e l'Italia nonostante tutto, nonostante le critiche in questo momento è il primo paese in Europa per velocità di vaccinazione. E poi bisogna che gli italiani lo facciano perché se gli italiani non lo fanno e non raggiungiamo il 70% di immunità di gregge non ci libereremo velocemente del virus. Ha parlato anche di obbligatorietà in diverse trasmissioni. Io penso che sia un dovere. Penso che se gli italiani faranno il vaccino l'obbligatorietà non servirà altrimenti io sono per metterla perché non è che possiamo permettersi di arrivare all'immunità di gregge tra tre anni magari mentre il resto del mondo avrà raggiunto l'immunità di gregge. Cioè proviamo ad immaginarci anche lo scenario. Ormai è diventata una questione di competitività territoriale. Ogni giorno guardiamo quanti ne ha vaccinati l'Italia, quanti ne ha vaccinati la Germania, quanti ne ha vaccinati la Francia. Se guardiamo le televisioni e i giornali il paese che ne ha vaccinati di più in questo momento è Israele. Provate ad immaginarvi più andremo avanti che cosa succederà. Se magari arriveremo all'estate con alcuni paesi europei che avranno raggiunto il 70% e l'Italia ancora no. Dove andranno le persone in vacanza? In Italia o negli altri paesi che saranno covid free? Cioè è evidente che è diventata una questione sanitaria, di sicurezza sanitaria, ma anche una questione di competitività socio-economica. E quindi è chiaro che se gli italiani andranno in massa a fare il vaccino e lo Stato si organizzerà velocemente, noi nel giro di un po' di mesi, io spero prima dell'estate, dopo l'estate, entro la fine dell'anno, insomma ogni tanto c'è un'asticella che cambia. Ci libereremo dal virus e torneremo ad abbracciarsi, magari toglieremo anche le mascherine. E altrimenti continueremo a vivere così con limitazioni che fanno dei danni anche all'attività socio-economica del paese. Un cittadino commenta, il vaccino non è la cura, non è un farmaco, cerchiamo una profilassi farmacologica, l'immunità di greggio e non ha basi scientifiche. Che cosa risponde? L'immunità di greggio e non ha basi scientifiche. se uno ascolta la scienza, diciamo gli scienziati e l'Istituto Superiore di Sanità o l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi sicuramente stanno andando avanti anche le cure. Stanno morendo meno persone rispetto alla prima fase, anche per questo. Uno perché il virus si conosce meglio e quindi si riesce anche a capirne meglio la gravità. All'inizio molti arrivavano al portossoccorso quando non c'era quasi più niente da fare. Inoltre perché alcune cure hanno dato dei risultati. tante persone sono guarite uscite dalla terapia intensiva grazie a delle terapie che cominciano a dare efficacia. Quindi parallelamente alla campagna di vaccinazione sicuramente crescerà anche la capacità di cura. Le due cose vanno avanti insieme. Su un noto programma su Rete4 lei si è lamentato di non prendere abbastanza per fare il proprio lavoro. Ma quanto desidererebbe avere come remunerazione? No, no, non mi sono mai lamentato. Io penso di essere fortunato innanzitutto perché faccio, per chi è appassionato di politica come me da quando ero ragazzino, faccio in questo momento il ruolo più bello che si possa fare che è il sindaco della propria città. Un'esperienza esaltante, sicuramente molto dura e però molto bella, quindi io di certo non mi lamento. Sto semplicemente dicendo a coloro che spesso e volentieri parlano a Vanvara, non sapendo di che cosa parlano facendo propaganda, che un sindaco non ha lo stipendio di un parlamentare e rispetto a un parlamentare ha delle responsabilità enormi. Il sindaco di Pesaro prende 2.500 euro netti al mese per 12 mesi, non ha 13esima, non ha 14esima, è un ottimo stipendio ma quando lo dico molti non ci credono perché tutti credono che il sindaco di Pesaro guadagni 10.000 euro al mese e che magari abbia chissà quali privilegi. E soprattutto il sindaco in questo momento ha un ruolo che ha maggiori responsabilità e minore indennità. Tant'è che io ho fatto una battaglia non per me o per sindaci come me che hanno comunque un'indenità buona ma l'ho fatta per i sindaci dei piccoli comuni perché c'erano sindaci dei piccoli comuni che prendevano 200 euro, 300 euro e avevano esattamente le mie responsabilità. Adesso grazie a una legge che il Parlamento ha approvato nessun sindaco a prescindere dalla popolazione che rappresenta può prendere meno di 1.300, 1.400 euro netti al mese. Questa è una battaglia secondo me di dignità perché non puoi chiedere a una persona di caricarci le responsabilità, rischiare gli avvisi di garanzia, rischiare le denunce, lavorare H24 perché un buon sindaco lavora H24 e non stacca mai il telefono e poi non dargli neanche uno stipendio per campare. Quindi la battaglia che ho fatta non l'ho fatta per sindaci di città e capoluogo come me, tant'è che l'indenità è quella e nessuno si sogna di aumentarla, ma l'ho fatta per i piccoli comuni e penso che abbiamo fatto una battaglia giusta tant'è che quasi tutto il Parlamento poi l'ha votata. Abbiamo una telefonata per lei, sentiamo che c'è in linea. Buonasera, sono Marco Larici da Pesaro, un saluto anche al sindaco Matteo Ricci e a voi vi fanno appunto TV. Chiamo per parlare con il sindaco Ricci riguardo all'installazione della seconda pensilina mancante alla fermata dell'autobus in via Andrea Costa, come ben saprà anche il sindaco che insomma anche pubblicamente nei giornali avevo già sollecitato questa installazione di questa pensilina che ormai è mancante da circa due anni. Ecco, volevo sapere appunto dal sindaco Ricci se è possibile insomma presto installarla, perché insomma 1080 cittadini che hanno firmato questa petizione ormai da circa due anni, come dicevo poc'anzi, penso che meritano una risposta concreta nell'installazione. Sì, se ne sta occupando l'assessore Aidi Morotti insieme all'Ami a Adribus e penso che a breve la questione verrà risolta. Le piscine sono chiuse e lì si potrebbe fare anche nuoti in sicurezza invece nel parcheggio San De Cenzio si gioca palacanestro, tutti ammassati anche senza controlli, questa è un'altra segnalazione. Sono una studentessa di liceo, siete sicuri di riaprire le scuole a febbraio? Ecco, dicevamo prima che probabilmente se tutto andrà bene potrebbero riaprire già dalla prossima settimana. Sindaco, anche se capisco che non è una domanda inerente all'argomento in questo periodo, ma sulla viabilità la mia domanda è sarebbe possibile spostare il traffico dei pullman da via San Martino a strada di Borgeria? Passano molti pullman in quella strada, Sindaco? Non lo so, è un problema che verificherò, sinceramente non c'è stato mai posto in maniera così importante, se non durante l'organizzazione di grandi eventi dove in genere abbiamo utilizzato quella strada per parcheggio, però non è un tema che mi è stato posto con insistenza, sicuramente se possiamo prendere gli accorgimenti ce li prenderemo. Sulla viabilità stiamo andando avanti su tante cose, si stanno facendo diverse rotatorie definitive, siamo addirittura d'arrivo con la rotatoria di Santa Maria di Loreto e stiamo continuando a sperimentare altre formule in strade pericolose, con strettoie piuttosto che altro, quindi stiamo andando avanti e nel 2021 abbiamo un bel piano delle opere con molti asfalti, con diverse attività, diversi lavori che andremo a farci nella vita e ulteriori piste ciclabili perché continueremo a far crescere anche la nostra bici politana, però insomma ogni osservazione va bene, la faremo verificare ai nostri tecnici nei prossimi giorni. Entreremo poi anche nel dettaglio per la bici politana, ci dicono anche ma a Pesaro le buche non ci sono, nessuno le segnala, c'era un'app buca che è nata, poi quella non è andata bene. Sì, sì, no, mi risulta che chi ha fatto segnalazione poi abbia ottenuto risposta positiva, secondo me molti non l'hanno, anzi l'invito a scaricare perché è un aiuto che si dà, perché poi ci si lamenta delle buche, si lamenta delle buche, se uno la segnala, coloro che ricevono la segnalazione, che è la Mobility Pro, che si occupa dalla manutenzione delle strade, deve non solo coprire la buca ma deve anche fotografare, rendicontare il lavoro al cittadino che l'ha segnalato, quindi è un bel esperimento. Poi è chiaro, siamo in periodo di Covid, è tutto un po' vattato, perché il Covid ha vattato un po' tutto il resto dei problemi, però mi sembra uno strumento interessante che potremmo magari anche ampliare ad altri settori, non solo le buche, ma penso al verde urbano o ai cassonetti, tutto ciò che spesso e volentieri i cittadini si segnalano quando c'è qualche disservizio che non ci dovrebbe essere. Allora Sindaco, dobbiamo andare qualche istante in pubblicità, però abbiamo ancora tanti argomenti da trattare, ma soprattutto abbiamo un video da farle vedere, perché qualcuno venerdì sera, come lei ben sa, l'ha tirata in ballo. A tra poco! Siamo di nuovo in diretta con il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l'ho anticipato qualcosa alcuni minuti fa, venerdì sera durante la diretta di Fanu TV per seguire l'iniziativa IoApro promossa dal ristoratore Umberto Carriera. Vittorio Sgarbi, uno dei commensali, l'ha tirata in ballo. Allora, prima di chiedere un suo parere, guardiamo insieme un frammento. Però chiedo, caro Ricci, tu eri con Renzi, eri culo e camicia con Renzi, dovresti essere contro questo governo di imbecilli. E ti dirò di più, che sono colpevoli, e da portare in tribunale per una ragione, che un emendamento che io presento alla Camera e al Senato, il Presidente del Senatore Pittori, dice una cosa molto chiara, che ci sono per tutti gli edifici pubblici, per tutte le scuole, per tutti i ristoranti, per tutti i musei, per tutti i teatri, dei sanificatori che non sono stati adottati adottando qualunque altra scuola, a meno che questa utile. Credo che sia giusto che uno come mangia alle 13 possa mangiare alle 20 o alle 21. Poi perché basterebbe imporre, non la tessera sanitaria come vuoi tu, ma i sanificatori in questo ristorante, e saresti certo, come nel tuo comune, che non passa il virus. All'aperto non può passare, basta tenersi a un metro di distanza, quindi si può sciare, si può fare il bagno, si può andare in bicicletta, all'aperto c'è salute. E tu non lo sai perché sei suonato. Caro Renziano, amico Ricci, stai con Renzi, che è la cosa giusta, e manda a fare questo governo. Carriera farà carriera, quello che ha fatto con grande forza e coraggio sarà ricordato dagli italiani. Tutti i ristoranti che sono aperti, questo è quello che guida gli altri, daranno lui la possibilità di avere una presenza in Parlamento di un uomo coraggioso, che difende il suo lavoro, come vuole, l'articolo primo della Costituzione, che i padri costituenti hanno voluto, e che tu tradisci. Non lavorare è andare contro la Costituzione e contro lo Stato. Lavora anche tu per una volta, caro Matteo Ricci. Allora, Sindaco, cerchiamo di rispondere ai vari punti che ha toccato, se lei è d'accordo, che ha toccato Sgarmi. Intanto il Covid non ha orario, è d'accordo su questo? Il Covid non ha orario, lui dice se si può andare a pranzo nel ristorante, ci si può andare anche a cena, anche se è vero che magari a pranzo ci va più rappresentante. A parte io penso che voi continuate, giustamente fate l'informazione, ma io penso che se non ci foste voi che ancora andate dietro a queste sceneggiate, facendo propaganda a certe sceneggiate, nessuno gli darebbe credito, perché appeso... Il nostro lavoro è anche raccontare ciò che succede. Sì, sì, però dovete dire anche che è stato un flop. Fatti quello che abbiamo detto. Flop totale. Perché credo non ci sia un ristoratore che abbia aderito all'iniziativa. Perché è una manifestazione lanciata con tutta questa potenza mediatica, perché poi Sgarbi serve a questo, no? La carriera è fondamentalmente uno che si occupa di comunicazione, quindi usa Sgarbi per avere richiamo. Dove esserci una rivoluzione. Nel suo post su Facebook. Dove esserci una rivoluzione. Invece che cosa è successo? Che neanche uno, neanche uno ha aderito, perché nessuno si riconosce in questa battaglia. E non è che sono ristoratori che non hanno da lamentarsi o che non protestano. Non è che sono ristoratori contenti. Sono ristoratori che hanno un mare di problemi, ma che non vanno dietro a coloro che per protestare infrangono le regole, infrangono le leggi. E lo dico soprattutto in un territorio come il nostro, che è un territorio che ha avuto una marea di morti. Quindi bisogna essere intanto rispettosi per coloro che ancora soffrono, per i morti, per coloro che lavorano in ospedale. E poi bisogna essere rispettosi dei ristoratori, dei baristi, di tutti coloro che invece rispettano le regole e non lo fanno per avere un attimo di visibilità. Dopodiché mi pare che lì Sgarbi fosse abbastanza sovrecitato. Non so cosa avesse fatto pochi minuti prima. Probabilmente si era, come dire, surriscaldato in questa atmosfera della manifestazione che si era creata. Ha detto un sacco di bestialità. Non so da dove iniziare a risponderli. Mi dispiace perché io lo considero sicuramente un ottimo critico d'arte, ma non uno scienziato. Quando devo parlare di Covid non ascolto Sgarbi, ascolto gli scienziati, ascolto l'Istituto Superiore di Sanità, ascolto coloro che ne sanno sicuramente più di Sgarbi. È come se io venissi qui a parlare di arte. Sgarbi mi farebbe una pernacchia. Ecco, penso che ascoltandolo molti cittadini abbiano fatto una pernacchia ad un critico d'arte che pensa di essere uno scienziato, un esperto sanitario, e non lo è. Parli d'arte, ma non parli di scienza e di virus. Però certamente è libero di esprimere... Ma ci mancherebbe altro. Però, se è libero di insultarmi, io sono libero di risponderli, perché poi non gli ho risposto fino ad oggi. Non lo faccio anche perché, essendo fra l'altro un amministratore del Comune di Urbino, ho sempre cercato di collaborare, stiamo facendo delle cose sulla cultura, continueremo a farlo perché poi a me alla fine le polemiche politiche lasciano il tempo che trovano. Dico però che ha sposato una battaglia sbagliata e in questo territorio una battaglia persa, perché i primi che hanno reagito a quella manifestazione sono stati i ristoratori di questo territorio. Io sto dalla parte dei ristoratori, non sto dalla parte di chi fa teatro o fa iniziative, a mio parere, folcloristiche. Vorrei capire da lei un dettaglio, perché dice da una parte che bisogna rispettare la legge, dall'altra c'è qualche cittadino che dice ma in realtà un DPCM non è legge. Vogliamo chiarire questo aspetto? No, il DPCM è legge, come non è legge? È legge, magari qualcuno ragiona sul fatto che ci sia un abuso del DPCM del Presidente del Consiglio rispetto ai decreti legge, ad altra cosa non voglio entrare in una materia che rischia di annoiare i cittadini. Però va rispettato. Certo, e perché tutti la rispettano e quello no? Poi tu puoi contestare che il DPCM sia sbagliato, puoi contestare tutto, ma quando una legge è approvata, quella lì è legge dello Stato, e quando quella legge è dello Stato, si deve rispettare. A Pesaro le leggi si rispettano. Se uno vuol fare teatro, non teatro, perché teatro è una delle cose che ci mancano, se uno vuol fare folklore, faccia folklore. Servirà a fare un po' di promozione. Io penso non a Pesaro, perché sento tanti cittadini che non hanno apprezzato. Se guardate, prima vi soccomettevi la mia pagina Facebook, penso che i post dove ho ottenuto più like in assoluto sono proprio post di dura condanna rispetto a certi atteggiamenti. Quindi credo che la stragrande maggioranza dei pesaresi condivida con me che questo non è il modo di protestare. Poi incontro, almeno una volta al mese, gli ho incontrato i ristoratori, le altre attività, cerchiamo di capire cosa fare ulteriormente con i ristori. Adesso ci sarà un nuovo scostamento di bilancio, quindi abbiamo bisogno di tenere botta. Quindi capisco benissimo tutte le difficoltà, ma non è possibile essere tolleranti con certi atteggiamenti. Poi, ripeto, io penso che non c'era neanche bisogno che gli rispondessi a Searbi perché si commentava da solo. Comunque i sanificatori nei ristoranti non sono una soluzione al problema. Oggi è venuta una ragazza di Pesaro, adesso mi dispiace per lei, mi sfugge il nome, perché stavo seguendo il dibattito in Parlamento, però è un'attività di Pesaro che mi ha portato, ha regalato al Comune dei sanificatori per gli uffici. Certo che ci sono queste anche iniziative. Quando ci sarà l'Istituto Superiore di Sanità che dirà che è sicuro un ristorante con basta avere il sanificatore e si andrà al ristorante con il sanificatore. Ma non è che lo può dire Sgarbi, è che lo dica chi si intende di queste cose e di certo è l'organismo che è stato creato, che è il CTS nazionale. Quindi io mi fido più di loro, nonostante che anche la scienza spesso e volentieri non abbia avuto pareri unanimi, abbia fatto degli errori, ma di certo bisogna affidarsi delle persone competenti, non di chi pensa di capire tutto e invece capisce sicuramente nel suo settore, ma molto meno in questi. In tanti ci stanno scrivendo per ricordarci questa famosa spilletta di marzo, però una telespettatrice... No, ma ricordiamola, ricordiamola, perché per me non c'è nessun problema. Cioè, siccome non sanno più cosa dire, ogni tanto gli dici, ma perché il 27 di febbraio dicevi che non bisogna avere panico? Certo, perché speravamo tutti di cavarcelo in pochi giorni e nessuno conosceva cos'era il Covid. E vedevamo la gente in panico e io facevo appelli contro il panico. Ecco, però le chiedono... Come faceva il presidente Mattarella, fra l'altro. Le chiedono, ma tu allora lì... Poi, se uno ancora pensa che dal 27 febbraio, ancora con la testa dal 27 febbraio, c'ha qualche problema, secondo me. Però le chiedono, tu allora lì non ero uno scienziato? No, non ero uno scienziato, ma gli scienziati all'epoca non avevano capito nulla ancora. C'era molta confusione. C'era una parte importante dei virologi che diceva che sarebbe stata una cosa poco più di un'influenza. Non è che lo dicevo io. E quindi io ascoltando quello che dicevano, ancora non era costituito il Comitato Scientifico Nazionale. Cioè stiamo parlando e non solo io ho fatto errori di questo tipo, lo hanno fatto gran parte dei politici mondiali. Quindi, ripeto, giudicatemi, lo dico a chi ancora che, giudicatemi su come ho gestito la pandemia, a me e a tutti gli altri sindaci. Nel momento in cui abbiamo capito che cos'era, dai primi di marzo in poi, potevamo fare di più come Comune di Pesaro? Abbiamo fatto poco? Ancora andare al 27 febbraio è, a mio parere, una cosa ridicola di chi non ha davvero argomenti da apportare. Passato quasi un anno, essere rimasti con la testa lì mi sembra molto grave. Ma c'è qualcuno che sa che con 416 euro di cassa integrazione al mese non si va avanti? Non c'è bisogno di essere scienziati? No, assolutamente, sicuramente. È un periodo difficilissimo per tutti. Sì, questo è un'altra questione. Di crisi economica. Questa è un'altra questione. E devo dire che la preoccupazione più passa ogni giorno e più aumenta, perché che cosa succede dalla fine di marzo in poi quando non ci saranno più gli ammortizzatori sociali? Noi rischiamo di avere un balzo della disoccupazione pazzesca. Pazzesca. Anche per questo, consentimi di dire che la crisi di governo che si sta discutendo in queste ore è allucinante, perché in un momento come questo, in piena pandemia, con una crisi economica sociale di questo tipo, con scadenze alle porte della cassa integrazione, con opportunità europee che arrivano dal recovery plan, essere qua ad aspettare, di capire se il governo sono conti alla maggioranza, alla maggioranza, è davvero incredibile, è la cosa più lontana che ci può essere dalla popolazione in questo momento. Per rispondere anche qui a Sgarbi, io sono sempre rimasto nel PD, io sono innanzitutto sindaco, rappresento la mia città e spero anche di dare una mano al mio territorio, al territorio provinciale, che ho avuto l'onore di rappresentare quando ero presidente della provincia. Poi politicamente io sono sempre stato dal PD, se Renzi se n'è andato è un problema suo, non è un problema mio, io non mi sono mai mosso da dove sono sempre stato, sono altri che sono stati in quella forza politica e poi se ne sono andati, non solo Renzi purtroppo, anche altri, e quindi io non ho nulla da, sono sempre stato in quella parte politica lì, mi riconosco in quei valori, e poi quando sono sindaco, sono sindaco di tutti, quindi a quel punto la politica amministrativa deve prescindere anche, deve prescindere dall'appartenenza politica, ma dal punto di vista nazionale e politico la mia posizione è sempre quella, io penso che Renzi abbia rappresentato in alcun paio d'anni una fase riformista del paese molto bella, tanti ci avevano creduto, milioni italiani ci avevano creduto, poi purtroppo dalla sconfitta del referendum in poi non ha più azzeccata una, e l'errore di aver fatto il suo partito dopo aver mandato Salvini al minoranza, cioè aveva fatto un colpo da maestro due mesi prima, poi si è fatto il suo partito, è stato un grande errore, e l'aver aperto questa crisi è stato un altro grande errore che ha commesso, io ho ottimi rapporti, ci siamo sentiti anche nei giorni scorsi, ci siamo fatti gli auguri l'ultimo dell'anno, ho fatto di tutto per impedirgli di fare questo ennesimo errore, non ascolta nessuno, fa di testa sua, così che mi avevo detto che era un errore fare il suo partito, quindi io sono al lavoro per dare una mano a Zingaretti in questo momento, da mesi in verità, gli sto a fianco, gli sto dando una mano, e sto cercando il più possibile di organizzare i sindaci dell'area riformista, di centro-sinistra, anche attraverso il ruolo nazionale che ho. Ecco, lei nel giorno scorso è stato a Roma per il progetto Rete dei Comuni Sostenibili, si è parlato tanto di questa agenda 2030, come sarà secondo lei il paese post-Covid? E poi sentiamo che c'è il telefono, arriviamo. Intanto il tema della sostenibilità ne esce rafforzato, questa Rete dei Comuni Sostenibili è un'associazione che ha lanciato ALI, l'associazione che io presiedo a livello nazionale, appunto la Casa dei Riformisti Locali, ci sono già 200 preadesioni ed è una cosa che io sognavo da anni, da quando ho iniziato a collaborare nel 2010 ero Presidente della Provincia con il Presidente Giovannini all'epoca Presidente dell'Ista, cioè la necessità di misurare lo sviluppo di una comunità con indicatori nuovi, con indicatori che misurino la qualità della crescita. Tutti noi abbiamo come unico indicatore che misura lo sviluppo il PIL, il prodotto interno lordo, ma il PIL non misura alcune cose che sono fondamentali per la qualità della vita, una di queste è la qualità ambientale, la salute, l'aspettativa di vita, il livello di istruzione, il livello culturale. Giovannini ha sviluppato come Presidente dell'Ista, poi l'hanno sviluppato i suoi colleghi quando lui se n'è andato, il BES, il BES è il benessere ecosostenibile, è un indicatore scientifico riconosciuto dall'Istat, quindi statistico, che già è dentro anche la legge di bilancio, un indicatore con il quale si misura anche lo sviluppo del paese e grazie a questa rete dei comuni, dice Valerio Luzzerini che è il direttore dell'associazione e lui che ha costruito questa rete, ai comuni che aderiranno saremo in grado di misurare la qualità della crescita di quel comune. Quindi fai politiche per la sostenibilità, migliori la qualità ambientale del tuo territorio, migliori la qualità della vita del territorio, ti dimostriamo statisticamente che è avvenuto, invece hai predicato bene, razzolato male, ti dimostriamo che i dati dimostrano che sei andato nella direzione opposta. È un elemento di verifica sia per gli amministratori che per i cittadini che può aiutare sempre più ad orientare verso la sostenibilità. La sostenibilità è uscita rafforzata dal Covid, è uscita rafforzata perché noi avremo bisogno di città sempre più verdi, con una mobilità urbana più sostenibile, con più verde urbano e abbiamo bisogno di aiutare le aree interne, i piccoli borghi perché le persone in questo momento cercano lo spazio e questa è anche una grande opportunità di riequilibrio territoriale, lo penso anche per la nostra provincia che negli anni ha visto calare progressivamente gli abitanti delle zone interne verso Pesaro, verso Fano e che magari adesso nei prossimi anni potrà avere un'opportunità di riequilibrio. Quindi è un tema ancora più forte dopo il Covid e quindi dalla rete dei comuni sostenibili può venire un contributo importante per l'intero paese. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera Sindaco, innanzitutto benvenuto nella famiglia dei ciclomatori, ho visto che va in mutan bike e vedo che l'attività fisica le fa bene, lo trovo molto in forma. Un po' di pancetta però dai, ci difendiamo. Dunque, io apprezzo molto quello che ha fatto per la città, devo dire che è cambiata molto. Però voglio essere sincero, mi pare che in questi ultimi periodi si sia un po' esaurita la spinta iniziale, soprattutto in quanto a opere, diciamo, tra quelle annunciate e quelle poi realizzate. Tanto per entrare nel concreto, mi riferisco per esempio a tutti i finanziamenti per le periferie che non vedo partire specialmente lì nella zona di via dell'Acquedotto, il Parco 25 Aprile che mi pare che ci sia un progetto molto bello, tra l'altro l'ho visto sul giornale, quello dell'architetto Tamino, ma non vedo niente, non ho visto ancora niente di concreto al di là di quello che è il bocciodromo che però mi pare non rientra in quel tipo di finanziamento. Poi ci sono anche tutta una serie del programma dell'asfaltatura, adesso prima lei diceva che nel 2021 si faranno, ma mi pareva che fosse scomparso dal radar della Giunta. Poi altri interventi che non dipendono direttamente dal Comune ma da altri soggetti però che rivestono una importanza fondamentale per la città e riferiscono le opere di compensazione di autostrade per esempio che ancora non si vedono partire purtroppo. Insomma, io vedo come dire questa discrosia tra annuncio e opere realizzate c'è sempre un solco sempre più ampio e credo che questo non sia come dire non realizzi un'immagine come merita Pesaro ecco anche perché lei lo fa molto meglio di me vedo che in Regione non è che ci amino molto paradossalmente poi sono i due rappresentanti pesaresi diciamo dell'attuale compagine che c'è in Regione che sono i più critici verso Pesaro la vicenda del nuovo ospedale credo che sia emblematica sotto questo aspetto ecco volevo da lei qualche informazione in più su tutto quanto le ho detto insomma grazie Sindaco da dove partiamo nuovo ospedale o sulle opere? intanto ringrazio il telespettatore non ho sentito il nome non l'ho capito come si chiama? c'è sfuggito Adriano Adriano ringrazio Adriano perché la sua come dire tensione è la mia ogni volta che faccio un incontro con i miei sui lavori pubblici mi lamento per la lentezza devo dire purtroppo che fare le opere in Italia è complicatissimo però voglio dire che alcune opere sono andate avanti anche velocemente penso ad esempio è passata come dire sotto tono abbiamo inaugurato qualche mese fa una delle scuole più sostenibili d'Europa abbiamo vinto un premio per questo che è la scuola media di Via La Marmora abbiamo avviato il cantiere nel 2017 e nel 2020 l'abbiamo inaugurato quindi ed è una scuola davvero al massimo dell'efficientamento energetico bellissima verrà completata con una nuova palestra e la stessa scuola lo stesso modello di scuola la faremo alla Dante Alighieri quindi abbiamo già finanziato un'altra nuova scuola alla Dante Alighieri quindi come dire i lavori sul sistema scolastico vanno avanti e vorrei fare ancora di più utilizzando le nuove opportunità l'area di Via dell'Aquedotto comincia a prendere ancora siamo all'inizio come veniva detto però già il fatto di aver fatto la pista di pump track la pista di skate tra poco inaugureremo il bocciodromo già comincia a portare gente in un'area che era sempre stata il retro bottega della città sul resto stiamo andando avanti con lentezza io mi lamento perché dobbiamo essere più veloci con i miei e abbiamo più di 10 milioni 11 milioni di finanziamento dello Stato inizieremo un parcheggio a breve che abbiamo acquisito vicino alla stazione e poi andrà avanti tutto il resto il ponte le varie strutture il rifacimento di tutta l'area i sottopassi quindi avremo un paio d'anni in un paio d'anni avremo quell'area completamente trasformata e quindi stiamo andando avanti così come stiamo andando avanti sul vecchio palazzetto dello sport che se non ci sono altre novità negative perché abbiamo stato un percorso ostacoli per quest'estate sarà inaugurato quindi restituiremo una infrastruttura importantissima per la musica per il ROF per i convegni per il turismo sarà un auditorio una 2000 posti e gli asfalti quest'anno ne abbiamo fatti abbiamo deciso di fare più pezze che strade intere quindi si sono visti magari un po' meno rispetto a quelle del passato ma reinizieremo appena il tempo ce lo consentirà quindi abbiamo fra l'altro molte risorse per gli investimenti anche nel 2011 quindi sarà un anno pieno di lavori abbiamo risorse per le ciclabili quest'anno sarà l'anno della ciclabile sicuramente di Via Fratti cominceremo anche le altre ciclabili quella verso Vismara quella verso quella di Colombarone quella verso Borgo Santa Maria quindi avremo un avvio anche di quella di quelle infrastrutture è chiaro che io vorrei andare più veloce possibile soltanto che è molto complicato molto molto complicato e bisogna avere pazienza sulla società autostrade e qui siamo stati un po' sfortunati a dire la verità perché stava tutto per partire ed è crollato il ponte di Genova e per due anni noi abbiamo avuto una incomunicabilità tra società autostrade e il ministero delle infrastrutture cioè non si parlavano oltre ad aver minacciato ricorsi contro ricorsi eccetera e quindi tutto è stato rallentato però proprio la settimana scorsa ho fatto di nuovo il punto con società autostrade finalmente partiamo con l'interquartiere di Muraglia perché credo a breve massimo i primi di febbraio o metà febbraio Marche Multiserivisti inizierà il lavoro sull'acquedotto e poi inizierà il lavoro sulla strada la ditta è stata scelta non ci sono stati ricorsi incrociamo le dita e quindi la gara è stata fatta e quindi quest'anno sicuramente è l'anno di avvio dei lavori degli interquartieri su tutto il resto si dovrà andare a gara speriamo anche qui per l'estate in modo tale che si possano assegnare i lavori il prossimo anno per le altre opere quindi è un continuo rincorare la burocrazia gli investimenti eccetera già era complicato ma in questi due anni io ho rischiato davvero di perdere i 100 milioni perché in caso di conflittualità tra società autostrada e il ministero gli investimenti su peso sarebbero saltati automaticamente e questo sarebbe stato per noi un danno enorme quindi ho tirato un sospiro di sollievo quando è stato raggiunto un accordo adesso in società autostrada entrerà cassa depositi e prestiti e quindi si potrà si può dare continuità ai contratti in essere e questo ci ha consentito di riprendere i lavori capisco l'ansia di fare le cose io sono ancora più ansioso e arrabbiato però fare i lavori pubblici in Italia è una delle cose più complicate che c'è dunque abbiamo diverse domande però siamo in chiusura quindi le chiedo veramente un botte risposta i lavori al Portobello sono fermi da tanto come mai? al Portobello abbiamo investito una marea di soldi tanti lo Stato grazie anche alla nostra sollecitazione in più ci sono due cantieri in corso privati ma che cambiano il Porto uno è il cantiere Rossini voglio ricordare a tutti quando abbiamo autorizzato il capannone nuovo le polemiche avete autorizzato un ecomostro se uno va al Porto sembra che stiano realizzando un museo invece che un capannone dove verniciare e fare la manutenzione degli yacht fra l'altro è un capannone bellissimo anche all'interno da te che stiamo pensando di fare anche qualche iniziativa musicale prima che inizino i lavori e così come sono partiti è stato demolito l'ex consorzio agrario sono partiti i lavori per un edificio che non è esattamente quello che noi volevamo noi volevamo una cosa ancora più ridimensionata ma non è neanche il progetto che avevamo trovato quando siamo arrivati quindi siamo riusciti a ridimensionarlo un po' non esattamente come volevamo noi perché abbiamo perso un ricorso al TAR però anche quello è un altro cantiere che migliorerà sicuramente il porto perché va a riqualificare due zone una che era depressa a causa del fallimento del cantiere l'altra che era in degrado da tantissimi anni e poi continueremo continueremo ad investire ovviamente servono risorse dello Stato e quindi anche per questo serve a mio parere continuità di governo perché altrimenti cambiando continuamente gli interlocutori aumenta la burocrazia dice lei parcheggio Baia Flaminia che è sempre pieno di auto si può fare qualcosa? ecco a proposito di una delle cose che abbiamo realizzato il parcheggio Baia Flaminia non è molto che abbiamo preso questa decisione un parcheggio importante il fatto che sia già frequentato è la dimostrazione che serviva perché Baia Flaminia è diventato un polo importante sia d'estate che d'inverno c'è un polo del food molto importante soprattutto questo parcheggio è un parcheggio prima che si entri nella zona diciamo più sensibile dal punto di vista ambientale oggi prima dell'arrivo del parcheggio chiunque volesse parcheggiare a Baia Flaminia era costretto a fare il curvone andare giù dentro la baia girare 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 finché non trovava il parcheggio andare sotto la falesia invece questa rotatoria che abbiamo fatto nella strada del lungofoglia permetterà alle persone di parcheggiare e non andare dentro Baia Flaminia il fatto che sia già utilizzato è molto importante perché quello sarà una bella barriera soprattutto quando arriverà l'estate perché quasi 100 auto potranno parcheggiare lì senza andare dentro Baia Flaminia non abbiamo tempo di fare altre chiamate ma ci chiedono per l'acquedotto romano è il lavoro che deve fare Marche Multiservizi l'interquartiere di Muraglia ha bisogno prima di uno spostamento di un pezzo dell'acquedotto storico non quello romano è un pezzo dell'acquedotto quindi non ci saranno problemi rispetto dal punto di vista archeologico è già tutto valutato poi spostato l'acquedotto si realizzerà la strada ed è un cantiere unico sostanzialmente quindi diciamo il 2021 è finalmente incrociamo le dita se non ci sono sorprese l'anno del cantiere il cantiere è già iniziato perché hanno fatto altre attività propedeutiche della realizzazione dell'avvio della realizzazione della strada strada del cimitero Santa Maria che ci sono delle buche verrà mai ripristinata la doppia corsia per carreggiata sulla cavalca ferrovia via Sabata sì certo il lavoro che stiamo facendo anche quello sta in parte dentro il bando delle periferie in parte dentro risorse nostre perché abbiamo iniziato a lavorare su molti punti quest'estate quest'estate sì c'è stato problema nel ponte all'ingresso di Pesaro perché per la messa in sicurezza ci è voluto tempo però abbiamo iniziato un lavoro serio sui ponti e stiamo cercando stiamo mettendo a posto tutti quelli che necessitano di una straordinaria straordinaria manutenzione ecco quindi quello è un altro lavoro che è stato avviato quindi quando sarà finito soprattutto i parapetti che sono molto vecchi si riaprirà e si riaprirà quattro corsi i lavori sono tanti e temo di finire il mandato con una parte dei cantieri che non vedrò ma magari sarà anche il testimone che diciamo l'eredità che lascerò a chi verrà dopo di me dal 2024 in poi perché credo che molti finanziamenti che abbiamo ottenuto in questi anni sono davvero tantissimi e sono convinto che quest'anno ne otterremo tanti altri e ci saranno luce magari quando io non sarò più sindaco bretella case bruciate in progetto? eh questa sta dentro le altre opere sull'autostrade quest'anno dovrebbe essere l'anno della gara il prossimo anno l'anno dell'avvio dei lavori quindi se anche qui non ci sono sorprese anno dopo anno riusciremo a far partire i cantieri sulle opere che abbiamo ottenuto da sull'autostrade quindi è un lavoro tosto molto tosto chiudiamo con un progetto suo però ha parlato di 2024 lei ha già pensato poi che cosa farà? ah mio personale ah non lo so non lo so mi piace come tutti sanno mi piace molto fare anche la politica nazionale la sto già facendo la sto facendo da sindaco da diversi anni penso che sia stato che sia un bene anche per il territorio perché comunque stare nei tavoli nazionali dà una forza la competitività del territorio e molto questo sì faticoso perché fare il sindaco e contemporaneamente fare la politica nazionale è molto complicato adesso con il covid no ma altrimenti giro molto anche l'Italia quindi questo sì è abbastanza faticoso perché abbinare le due cose è un carico di lavoro importante mi piacerebbe essere utile al mio paese ecco non so in che modo ma mi piacerebbe essere utile al mio paese ma insomma la politica ormai come vediamo non si riesce a programmare non si riesce ad avere una programmazione che vada di là del mese io cerco di programmare almeno amministrativamente il mandato ma programmare che cosa si che impegni politici potranno avere in futuro è di vero difficilissimo di certo voglio fare il massimo possibile da sindaco fino all'ultimo giorno e al tempo stesso provare a dare una mano al mio paese per quello che posso grazie sindaco per essere stato con noi questa sera grazie a voi appunto perché sappiamo che è veramente impegnato ultimamente grazie anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con il nostro direttore che leggerà insieme a voi i quotidiani arrivederci grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri